Nell'ambito della fusione tra Abruzzo Sviluppo e Fira troveranno ricollocazione alcuni dei dipendenti del Ciappi? Sì, Nando credo che sia un passaggio importante quello che finalmente abbiamo ottenuto la unificazione dei due enti strumentali finanziari della regione Abruzzo, avremo così la possibilità di finanziare il sistema economico nella sua interezza in maniera importante. Avevamo assicurato i lavoratori del Ciappi, quelli che sono rimasti ancora, che non sono andati in pensione e che dovevano essere ricollocati, che nell'ambito di questo processo avremmo trovato anche a loro la sistemazione, quindi 5-7 dipendenti che sono rimasti, adesso seguirà una procedura che bisognerà seguire, ma comunque abbiamo ritrovato una collocazione per questo personale che era rimasto a piedi rispetto a tutto ciò che sapete è successo negli anni per quanto riguarda questo centro di formazione che nel 2018 con il precedente governo regionale ha trovato la sua chiusura in quando è stato tolto l'accreditamento. Un processo difficile e lungo, ma alla fine credo che anche questa sia una bella notizia, quando meno per i lavoratori. Una bella notizia, ma per dare segnali maggiormente positivi cosa si potranno aspettare questi dipendenti? Si parla di 5-7 dipendenti. Sì, si aspetteranno che inizierà un processo, che ci saranno degli atti che la Giunta dovrà mettere in piedi per arrivare all'assunzione, quindi si tornerà un rapporto diretto con la nuova società e metteranno a frutto la loro esperienza di formazione, sicuramente sono ampiamente qualificati e danno la possibilità di fare anche altro alla società che nascerà, perché la società nasce con un oggetto sociale ancora più ampio di quello che ha.